Si è chiuso il cerchio delle indagini dei carabinieri di Alcamo per individuare quelle che secondo gli investigatori sarebbero le due malviventi che poco più di un mese fa avevano derubato un'anziana di 83 anni nella sua casa ad Alcamo dopo averla raggirata utilizzando uno spray, due malfattrici che si spacciavano come inviate dal comune. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagna di Alcamo infatti hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di due donne siracusane, madre e figlia rispettivamente di 47 e 26 anni per le quali si è ritenuto che sussistano gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto in abitazione ai danni dell'anziana donna. Una vedova alcamese. Già note alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, le due arrestate rintracciate nel comune di Noto sono state ristrette quindi agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria e sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell'arma per cercare di risalire all'eventuale responsabilità delle due malviventi circa altri episodi di questo tipo. Il fatto era stato raccontato ad Alcamondo Blog dalla figlia della vittima dell'accaduto la quale dopo aver esporto denunce ai carabinieri aveva voluto infatti rilasciare un'intervista telefonica lo scorso 23 ottobre per evidenziare la pericolosità delle due delinquenti che adesso sulla base degli indizi raccolti dai carabinieri sono state arrestate. Approdano quindi ad un concreto risultato le indagini condotte dai militari dell'arma coordinati dalla procura di Trapani. Indagini avviate a seguito di quella denuncia in cui la vittima stessa disperata dopo essersi resa conto che le erano stati sottratti monili in oro e denaro contante ha fornito agli inquirenti dettagli utili ad avviare le ricerche. La vicenda infatti aveva avuto inizio quando l'anziana, mentre si stava recando a piedi alla messa domenicale in pieno centro ad Alcamo, era stata avvicinata nel corso 6 aprile dalle due donne oggi arrestate che si sarebbero spacciate per amiche dell'altra sua figlia, cioè la sorella della signora Anna, che aveva rilasciato l'intervista telefonica ad Alcamondo Blogger raccontandone infatti i particolari e preferendo non rivelare il proprio cognome per ragioni di riservatezza e di sicurezza. Convinta la vittima di essere stata contattata per darle una mano con le pulizie domestiche, le due malfattrici si sarebbero poi fatte accompagnare alla sua abitazione situata in una traversa dal corso 6 aprile. A quel punto avrebbero anche detto alla loro vittima, designata di essere state incaricate dal Comune, di verificare le condizioni di salute dell'anziana e sostenendo di avere constatato il gonfiore delle sue mani, avrebbero applicato uno spray dicendole che avrebbe avuto un effetto curativo. Lo spray in realtà sarebbe stato utilizzato come scusa per sfilare gli anelli indossati dalla vittima, così dicendo anche di avere lasciato i monili in un cassetto affinché l'anziana potesse poi recuperarli dopo che lo spray avesse fatto effetto, le due delinquenti avevano lasciato l'abitazione. Soltanto dopo l'83enne si è accorta che era stata sottratta, oltre agli anelli, anche la somma contante di 400 euro prelevata dalle due donne, approfittando di un suo momento di distrazione all'interno di un cassetto dove era custodito il denaro. L'attività di analisi e di controllo del territorio condotta dai carabinieri ha però consentito di risalire all'identità delle due presunte malfattrici. Grazie a tutti.